Dopo mesi di trattative, voci e indiscrezioni è uscito il calendario ufficiale della nuova Formula 1, mi verrebbe da dire. La stagione che doveva partire a marzo è stata rimandata di mesi per via della pandemia che tutti noi conosciamo e ufficialmente partirà il 5 di luglio in Austria. Dunque siamo tornati su Wikipedia inglese per vedere quello che è il nuovo calendario, dunque di fatto rifare il video di presentazione che feci a inizio stagione prima che venisse cancellato il Gran Premio di Austria. Ci sono alcune novità, considerato che in alcuni casi ci saranno due Gran Premi nella stessa località e è appunto considerato anche il fatto che la federazione ha ufficialiato soltanto i primi 8 Gran Premi. Vediamo allora quali sono, la notizia ovviamente è di un paio di ore fa, voi vedrete il video alle 14 come al solito in questi video commenti. Andiamo sempre con il tutto di Wikipedia inglese direttamente al calendario tenendo anche conto dei circuiti che o sono stati cancellati dal Mondiale 2020 oppure sono ancora in attesa di definizione dal momento che la FIA vuole arrivare quantomeno a un Mondiale concluso a dicembre con almeno 18 Gran Premi fatti considerato che appunto alcune località ospiteranno due eventi consecutivi. E l'Austria è uno di questi posti. L'Austria ospiterà due Gran Premi, si parte il 5 di luglio quindi poco più di un mese per il via a questa nuova stagione 2020 che sarà interessante in ogni modo anche se è partita molto in ritardo per via dei tanti sviluppi di mercato che ci sono stati per esempio l'addio di Vettel alla Ferrari, il comportamento di Carlos Sainz che andrà appunto in Ferrari al posto di Vettel, Ricciardo che andrà via da Renault. Ci sarà da vedere ovviamente se Luis Hamilton riuscirà a conquistare il settimo titolo del mondo e dunque eguagliare il numero di vittorie e titoli Michael Schumacher. Insomma tanta carne al fuoco ugualmente per 8 Gran Premi che comporranno la prima parte. Sono 8 Gran Premi tutti in Europa, si parte dal Red Bull Ring che dunque ospiterà due gare il 5 e il 12 di luglio. Tra l'altro nei posti in cui si dovrebbero ospitare due gare si era fatta l'ipotesi per la gara numero 2 di non fare le qualificazioni ma di fare una gara sprint con l'inversione di griglia. È una cosa comunque da certificare, vedremo che cosa succederà in merito. Dopo l'Austria si andrà in Ungheria, la settimana dopo quindi nel mese di luglio avremo addirittura 3 Gran Premi. L'Ungaro Ring è stato ottenuto, uno dei circuiti più stretti del mondiale e onestamente uno di quelli che a me non piace però è un circuito che ha dato la disponibilità per ospitare il Gran Premio e ci sarà il 19 di luglio. Poi Double Header in Inghilterra il 2-9 agosto a Silverstone, circuito tradizionale, circuito che a me piace, da vedere, non da giocare, soprattutto su Project Cars e spero anche su Formula 1 2020 sia un po' meglio ma lo vedremo a luglio quando uscirà il gioco. Poi dall'Inghilterra si passerà in Spagna la settimana successiva per il terzo Gran Premio di agosto, qui è la settimana di ferragosto e andremo a Barcellona, circuito del Montmelò. E ovviamente qui invece si rispetta il calendario originale perché come la tradizione a fine agosto e inizio settembre in appuntamento ravvicinato ci sarà il mio circuito preferito di sempre ovvero Spaffar con Champ e poi l'autodoma nazionale di Monza per il Gran Premio italiano quest'anno ottavo appuntamento stagionale. Tra l'altro si fa un'ipotesi che qualora uno dei Gran Premi che vedete sotto non venga riprogrammato se si vuole aumentare la capienza di Gran Premi in Europa di farne un altro in Italia le voci dicono che o si fa una gara 2 a Monza oppure una gara a Imola che sarebbe bellissimo soprattutto perché Imola fino al 2006 ha ospitato le gare di Formula 1 o addirittura il Mugello che di solito è sede del moto mondiale. Tante esclusioni in questa prima parte di stagione, va detto che la maggior parte dei Gran Premi sono stati posticipati, in particolare voi dovete prendere in considerazione quelli che qui in Wikipedia inglese segna come pending, per esempio qui ho preso il circuito di Singapore che purtroppo non ci siamo levati dai coglioni ma sarà ancora una volta presente. Grazie al Signore però quest'anno ci siamo tolti dalle palle Monte Carlo che onestamente capisco i soldi e il fascino di Monte Carlo però onestamente è uno dei Gran Premi orrendi che ci tocca assorbirci ogni anno. Raramente è un Gran Premio divertente a mio modo di vedere quest'anno ce lo siamo tolti dalle scatole per fortuna. Al di là di questo Gran Premio di Monaco cancellato hanno cancellato ufficialmente, per quest'anno almeno, il Gran Premio di Australia il circuito di Albert Park, il Gran Premio dell'Olanda che doveva essere all'esordio assoluto per una Zandvoort sicuramente rinnovata visto che hanno fatto la sopraelevata per aumentare i punti di sorpasso Zandvoort, come ho detto nel video di presentazione scorsa, è di fatto una bella Ungheria ancora più tortuosa e ancora più difficile da superare quindi non è un Gran Premio incredibile secondo me a naso per le Formula 1 è stato cancellato anche purtroppo il Gran Premio di Francia che invece questo è un circuito che a me piace tanto che ha dato, tranne l'anno scorso, delle gare interessanti sono quattro Gran Premi cancellati tutti gli altri sono Gran Premi che dovranno essere rifissati evidentemente si va secondo una logistica ben precisa prima si fanno tutti i Gran Premi possibilmente in Europa poi si dovrebbe andare in Asia andando poi per le Americhe e concludere a dicembre negli Emirati Arabi si parlava di una doppia gara in Bahrain e la chiusura ad Abu Dhabi secondo le voci si parla di un calendario che finirà a dicembre a Santa Lucia comunque è un mondiale che parte in ritardo spero comunque che sia qualcosa di interessante dal momento che finalmente da luglio usciranno i racing podcast ufficiali per quanto riguarda le gare e i miei abituali commenti probabilmente se il Gran Premi è al pomeriggio il mio commento arriverà verso le 19 bisogna vedere ovviamente come sia impegnato il sottoscritto andiamo a vedere direttamente quelli che sono però i piloti impegnati per chi appunto avesse scarso memoria sono gli stessi dell'anno scorso con una sola novità Nicholas Latifi Va in Williams al posto di Robert Kubiz ha andato a fare il terzo pilota all'Alfa Romeo favorito per questo campionato del mondo secondo me è ancora una volta Louis Hamilton perché il pilota inglese ha ancora fame di vittoria e vuole arrivare al settimo titolo è ancora secondo me il pilota più forte che c'è in questo momento in circolazione ha avuto pochissimi avversari nel corso degli anni si ha lottato con Vettel nel 17 e nel 18 l'anno scorso c'era il mondiale che giocava con Bottas che pare venga mandato via dalla Mercedes visto che anche Bottas è in attiva con Renault in favore di Russell che farà il suo apprendistato in Williams che tra l'altro è in vendita incredibile ma vero la scuderia di Claire Williams che ha fatto un disastro amministrativo in Williams appunto è in rosso ha perso lo sponsor principale insomma una catastrofe e speriamo che per l'inizio del campionato possa aver trovato un nuovo acquirente favoriti per il mondiale appunto c'è Hamilton i competitors sono sicuramente le Clerc che è un pilota su cui la Ferrari ha voluto puntare fortemente e anche giustamente attenzione all'altro giovenissimo terribile ovvero il solito Max Verstappen sarà anche un incognito a vedere poi le macchine come saranno sviluppate perché lo sviluppo era stato congelato per via appunto dello stop che la FIA ha impostato alle scuderie c'è stato poi il tempo per i meccanici e gli sviluppatori di tornare appunto a mettere mano sulle vetture e chissà che i valori che ho detto non possono essere cambiati anche se ovviamente la vedo dura sicuramente il campionato avrà un suo motivo di interesse vedremo se Hamilton riuscirà a conquistare il settimo titolo del mondo oppure se ci sarà una sorpresa quindi i vari Verstappen i vari Leclerc possano dare filo da torcere a Hamilton sarà interessante vedere soprattutto Sebastian Vettel l'ultimo anno con la Ferrari e qui segnatevelo ragazzi perché io mi aspetto una carambola incredibile tra Vettel e Leclerc perché Vettel ormai non ha nulla da perdere in Ferrari è un pilota volutamente nervoso e molto fumantino io mi aspetto che si riproponga un episodio come quello del Brasile dove Leclerc e Vettel si sono toccati e sono andati fuori a vicenda perché giustamente quello che doveva vincere i mondiali come Schumacher tedesco come Schumacher eccetera scaricato dalla Ferrari in favore del futuro Charles Leclerc oggettivamente non lo vedo come un pilota che lo gradisca in questo modo e quindi mi aspetto che Vettel speroni Leclerc a un certo punto perché per il fascino di questo mondiale dei miei racing podcast dobbiamo avere un ulteriore motivo di interesse ovvero i comportamenti ambigui e sbagliati di Vettel nonché chissà le grandi strategie del muretto Ferrari che ci hanno sempre accompagnato fino all'anno scorso al di là delle battute sarà interessante vedere anche come si comporterà Carlos Sainz pilota che andrà in Ferrari l'anno prossimo al posto proprio di Vettel per un team McLaren che spero faccia molto meglio dell'anno scorso o quantomeno fare qualche podio in più nell'utopia generale se magari Ferrari e Red Bull spaccano e quindi rimangono praticamente loro e tutte le scuderie che arrivano dietro insomma alla fine quello che conta è che il mondiale di Formula 1 partirà vi ricordo 5 di luglio in Austria e ovviamente per ogni gara ci sarà il racing podcast del sottoscritto per quanto un canale amatoriale spero che questo video vi sia piaciuto fate sapere cosa ne pensate di questo calendario delle possibili novità come vedreste secondo voi questo calendario e se secondo voi i valori in campo di questo modello 2020 sono cambiati rispetto al programma originale il saluto da parte di Metodorgard ovviamente ci vediamo a un prossimo video quando ci saranno i calendari sia della Superbike sia della MotoGP e ovviamente anche del Baseball MLB per dare ovviamente completezza agli sport che è tratto su questo canale a un prossimo video